Per Natale abbiamo sempre l'incombenza di cosa possiamo regalare ai nostri amici, ai nostri figli e spesso non sappiamo che cosa fare, soprattutto a più piccolini. Cosa piace a tutti quanti? I supereroi. Ma la verità è che voi siete i nostri supereroi, con o senza potere, perché in realtà la cosa bella di essere un supereroe è non usare i propri poteri. Anzi, voi i poteri li avete. Perché li avete? Perché grazie a un piccolo dono potrete adottare una specie in via di estinzione, un delfino, o magari un panda che è proprio il simbolo del WF. Hanno bisogno proprio di voi. Come fare? www.f.it Va spettano!